Nel cuore pulsante della serie Endless Love, la verità ha finalmente trionfato, e ora Kemal, con l'anima ardente di speranza, aspira a riconquistare tutto ciò che gli è stato tolto. Tuttavia, il percorso è irto di insidie e ostacoli che continuano a metterlo alla prova. Cosa ci riserveranno le anticipazioni di sabato 19 ottobre? Io sono Isabella, e vi invito, come sempre, a non distogliere lo sguardo da questo video fino all'ultimo secondo, perché le scene che vi attendono sono cariche di rivelazioni e momenti indimenticabili. Non dimenticate di iscrivervi al canale, per non perdere nemmeno un frammento di questa avventura. La scena si apre con Kemal, che scopre Niyan addormentata sul divano. Con un gesto tenero e protettivo, prende una coperta e la adagia dolcemente su di lei, sedendosi poi al suo fianco. In un sussurro di sogno, Niyan, ancora avvolta nei veli del sonno, stringe la mano di Kemal e lo implora di restare. Con un movimento lieve, appoggia la testa sul suo petto, cercando rifugio e conforto in quel fugace attimo di tranquillità. Ma l'intimità di questo momento è minacciata da una presenza inaspettata. Fuori, nell'ombra della sera, Asu si avvicina furtivamente alla casa. Senza essere vista, osserva i due attraverso la finestra, mentre l'abbraccio che unisce Kemal e Niyan. Fuori dalla dimora, avvolta dalla penombra, Asu resta pietrificata. Uno strazio profondo le aggroviglia il cuore, vedendo la scena di intimità a cui ha assistito. La delusione e la sorpresa si mescolano in un turbamento che la spinge a ritirarsi rapidamente. Con passi incerti, raggiunge la sua auto, dove il tumulto dè i suoi pensieri la sovrasta. Afferra il telefono. Il dito vacilla sul tasto di chiamata, pronta a coinvolgere Emir, ma un'ultima esitazione la assale. Il caos dei sentimenti si placa leggermente e, con un gesto quasi meccanico, spegne il dispositivo. Asu parte, lasciandosi alle spalle la casa e i segreti appena scoperti, con un cuore ingarbugliato di emozioni inespresse. Al contempo, un altro dramma si dipana in una stanza d'ospedale, dove Emir veglia sua madre. L'aria è satura di una tensione, un silenzio che pesa come piombo. Emir, con uno sguardo penetrante, interroga il medico, la voce tremante nella domanda che gli sfugge dalle labbra. Sua madre aprirà di nuovo gli occhi? Tra i visi tesi, il medico offre finalmente un barlume di speranza. Con tono cauto ma positivo, riferisce che i risultati sono incoraggianti e, salvo imprevisti, la madre di Emir potrà fare ritorno a casa già dalla mattina seguente. Un sospiro di sollievo sfiora le labbra di Emir, un lampo di speranza in un mare di incertezze. Le rassicurazioni del medico sembrano alleggerire l'atmosfera, ma non completamente. Non appena rimangono soli, Emir, con un'acutezza tagliente nella voce, sfida il padre. La sua provocazione è un dardo avvelenato. Il risveglio della madre potrebbe davvero essere una benedizione per tutti loro? L'aria si carica immediatamente di elettricità. Le parole di Emir vibrano nel silenzio teso. Galip, il volto inciso dalla preoccupazione, non riesce a mascherare la preoccupazione. Il confronto diventa inevitabile. Emir, con un'audacia che sfiora l'irriverenza, incalza il padre. Teme forse che la madre possa rivelare segreti sepolti. Galip tenta di respingere le accuse con una calma forzata, ma gli occhi di Emir, troppo abituati alle sfumature di suo padre, vedono oltre. La tensione sale mentre Emir si avvicina, il suo sguardo si fa glaciale, la voce bassa e pericolosa. Prega che a mia madre non succeda nulla, altrimenti sarò io a chiederti conto di ogni cosa. Galip, angosciato, contrattacca accusandolo di minacce, ma Emir, imperturbabile, conferma con fermezza le sue intenzioni. Dopo uno scambio di parole cariche di minaccia, Emir esige di essere lasciato solo con la madre, un comando che riecheggia con forza nella stanza. In casa Soidere, la famiglia è raccolta attorno al tavolo per la cena. I piatti fumanti adornano la tavola, ma l'atmosfera è tutt'altro che serena. Feime, la madre, appare assente, immersa in un mare di pensieri. Il suo sguardo è vuoto e il cibo nel suo piatto rimane intoccato, segno evidente del turbamento che la assilla, forse dovuto alle recenti vicende della figlia. Il marito, nel tentativo di scuoterla da quella tristezza, la incita a mangiare. Ma Feime, con un tono carico di ombre, replica che il suo dolore non si dissolverà così facilmente con semplici parole. Tariq, cercando di alleggerire l'atmosfera, interviene parlando con speranza della sorella, ma questo sembra solo irritare ulteriormente Feime. Con un gesto deciso, si alza dal tavolo e si allontana, lasciando una scia di tensione dietro di sé. Banu, dal canto suo, rimprovera Tariq per la sua mancanza di tatto, invitandolo a non premere su argomenti così delicati. Ma proprio in quel momento il telefono di Banu vibra insistente. È Emir che chiama. Lei, con un rapido movimento, rifiuta la chiamata, una decisione che non sfugge agli occhi scrutatori di Tariq. I suoi sospetti si infittiscono, convinto sempre più che Banu nasconda dei segreti. Intanto, in un ristorante dall'atmosfera intima, Hakan e Zeynep sono seduti a cenare. Lui cerca di infondere coraggio, promettendo supporto nella ricerca di un nuovo impiego. Ma è evidente che i pensieri di Zeynep vagano altrove. La nostalgia di casa la opprime e il desiderio di ritornare tra le mura familiari è evidente. Hakan, con una voce che intende essere rassicurante, le sussurra che prima o poi le acque si calmeranno e tutto tornerà alla normalità. Hakan cerca di seminare speranza nel cuore di Zeynep, convincendola che la sua famiglia la accoglierà di nuovo a braccia aperte, nonostante gli errori del passato. Ma mentre le parole di incoraggiamento fluttuano nell'aria, un colpo di scena cattura l'attenzione di Zeynep. Sullo schermo del ristorante scorrono le ultime notizie. La madre di Emira è sveglia. I suoi occhi si fissano sul televisore, un lampo di sorpresa increspando il suo viso. Hakan la osserva, incuriosito dalla sua reazione improvvisa. Tuttavia, Zeynep, con un movimento rapido e agitato, si alza pronta a lasciare il locale. Hakan tenta di trattenerla, rivelando che Emira ha trasferito sua madre in un rinomato ospedale privato vicino alla spiaggia. Ma Zeynep, con un gesto brusco, dichiara che non le importa e si dirige verso l'uscita, lasciando dietro di sé un Hakan confuso e preoccupato. Nel frattempo, nell'atrio silenzioso dell'ospedale, Emira impartisce istruzioni precise all'infermiera. Sua madre non deve restare sola nemmeno un istante, nemmeno in presenza del medico, fino a quando non sarà al sicuro a casa. La gravità della sua richiesta risuona nei corridoi solitari. Poco distante, Asu risale in auto, ancora turbata dalle scene a cui ha assistito, il cuore pesante mentre si allontana dal luogo che custodisce segreti troppo grandi per lei. Nella penombra serale, Kemal e Nian trovano un momento di quiete per riannodare i fili di una conversazione interrotta. Nian, con una voce carica di rimpianto e un sottile velo di tristezza negli occhi, confida a Kemal che avrebbe desiderato un destino diverso per loro. Le sue parole fluttuano tra loro, cariche di un dolore non detto e di speranze infrante. Nonostante le avversità, Nian e Kemal sono riusciti a ritrovarsi, un filo sottile di speranza ancora intatto tra di loro. Nian implora Kemal di armarsi di pazienza, ma lui, visibilmente sfinito, confessa di non averne più. La sua voce è carica di determinazione quando parla di voltare pagina, di liberarsi una volta per tutte delle ombre del passato e di reclamare ciò che Emir gli ha ingiustamente sottratto, inclusa la piccola Denise. Nian, con un tono pacato, cerca di temperare l'ardore di Kemal, suggerendo di persistere nel loro piano strategico per erodere il potere di Emir, convinta che solo così potranno sottrarsi alla sua influenza distruttiva. Lei si offre di rimanere ancora qualche mese nella loro attuale residenza, un sacrificio che considera necessario per il loro scopo finale. Tuttavia, Kemal scuote il capo, rifiutando categoricamente. Il dolore di sei anni di separazione pesa troppo su di lui. L'idea che sua figlia debba trascorrere anche solo un minuto in più sotto lo stesso tetto di quell'uomo è insopportabile. Intanto, nella quiete della sua auto in movimento, Emir è assorbito dai suoi pensieri, che inesorabilmente si dirigono verso Zeynep. Rivive il momento doloroso in cui lei lo ha respinto, dopo averla condotta nella casa con vista sul mare, una ferita ancora aperta nel suo cuore. Quel ricordo tormenta ogni suo pensiero, spingendolo a una decisione risoluta. Deve trovarla, costi quel che costi. Mentre la notte avvolge delicatamente la casa, Denise si risveglia con un lieve gemito. Kemal, padre pieno di amore, la raccoglie tra le braccia con un gesto protettivo e tenero. Il cuore gli si scioglie mentre la chiama principessa, e le sussurra parole dolci, rivelando di aver sempre sentito nel profondo che lei era sua, fin dal primo istante in cui i loro sguardi si erano incrociati. Nian, testimone di questa scena toccante, osserva con gli occhi lucidi di lacrime il petto gonfio di emozioni. L'intimità del momento è bruscamente interrotta dal suono del telefono di Kemal. È Azu che chiama, la sua voce maschera una calma apparente. Con finta nonchalance, le propone di cenare insieme. Kemal, ignaro delle vere intenzioni di Azu, declina gentilmente l'invito spiegando di avere impegni con Zeir. Non sa, tuttavia, che dietro la tranquillità di Azu si nascondono trame oscure. Lei è determinata a tendergli una trappola. Non appena termina la chiamata, Azu agisce rapidamente. Estrae di nuovo il cellulare e compone un numero. Il suo sguardo è un abisso di vendetta. Con un sussurro che sfiora il veleno, chiede un favore urgente a qualcuno dall'altra parte della linea. Ogni sua parola è un filo teso verso la rovina di Kemal. Intanto, nella quiete della loro casa, Kemal torna da Denise e Nian gli ricorda che è ora di darle il latte. Con un sorriso che nasconde la tempesta che si sta formando all'orizzonte, si avvicina a loro, avvolto dall'amore per la sua piccola. Ogni gesto rivela la sua determinazione a non perdere più neanche un attimo della vita con sua figlia, ignaro dei pericoli che lo stanno cercando nell'ombra. In un angolo tranquillo della loro dimora, Kemal interroga Nian sui dettagli quotidiani di Denise. I suoi orari di sonno, le sue abitudini alimentari, ogni minuzia che lo possa aiutare a recuperare il tempo perduto. Ogni domanda rivela il suo desiderio ardente di immergersi completamente nella vita della figlia, di colmare il vuoto lasciato dalla sua assenza. Nian, con voce dolce ma intrisa di rammarico, gli chiede scusa per le circostanze che li hanno separati. Kemal, guardando Denise con uno sguardo traboccante di amore, le promette che farà tutto il necessario per sistemare la situazione. Più tardi ritornano in salotto e si accomodano sul divano. Mentre Denise gioca serena ai loro piedi, la conversazione inevitabilmente si dirige verso Emir. Nian suggerisce di mantenere la calma e procedere con cautela, seguendo il loro piano meticoloso per sottrarre ogni briciolo di potere a Emir. Tuttavia, Kemal, il cuore avvelenato dall'odio verso quell'uomo, non riesce a sopportare il pensiero di sua figlia sotto lo stesso tetto con lui. Con una risolutezza che scuote la voce, respinge l'idea di Nian. L'unica cosa da fare, dice con fermezza, è prendere Denise, salire in macchina e allontanarci da tutto questo per sempre. Nian, avvertendo l'impeto di Kemal di fuggire da tutto, lo riporta alla dura realtà con parole pesanti. Gli ricorda di Ozan, il fratello la cui morte misteriosa ancora grida vendetta. Non possiamo abbandonare la ricerca dell'assassino, insiste con tono grave, e fuggire ora potrebbe mettere in pericolo tutti coloro che amiamo. Emir non esiterebbe a colpire i nostri cari come rappresaglia. Le parole di Nian sono un faro nella tempesta di emozioni di Kemal, che, seppur riluttante, accetta la verità nelle sue parole, non fuggiranno. Invece, Kemal propone una soluzione audace. Allora viviamo tutti insieme sotto lo stesso tetto e combattiamolo da vicino. Non posso sopportare l'idea di Deniz sotto il suo stesso tetto. Nian con fermezza, cerca di temperare il suo ardore, preoccupata che Deniz possa diventare una pedina nel loro conflitto con Emir. Nel frattempo, in un capannone spoglio e gelido, Zahir cerca di scacciare il freddo con un tè bollente mentre tenta di distrarsi con la televisione. L'aria è tagliente come il rancore che porta nel cuore. Improvvisamente, la porta si apre e appare Zera. I suoi occhi carichi di un pentimento. Devo parlarti, esordisce con una voce che trema di emozioni trattenute. Zahir, il viso indurito dal dolore passato, la respinge con fermezza. Non c'è più nulla da discutere tra noi. Zera avanza, le lacrime agli angoli degli occhi mentre confessa. Mi dispiace, ti amo ancora come un tempo. Ma Zahir non si lascia ammorbidire. La sua voce è un pugnale. Tu sei la causa della morte del nostro bambino, le rimprovera. Ogni parola ha un colpo al cuore di entrambi. Zera, con una voce che si spezza sotto il peso delle emozioni, cerca di far luce sulla tragica notte. Stavo cercando te, dice, il respiro affannoso. Tuo padre aveva chiamato la polizia per farti arrestare. Non volevo che ti trovassero, non ho visto arrivare quell'auto. Le parole fluiscono veloci, un fiume in piena di rimorsi e spiegazioni tardive. Zahir, il volto ancora segnato dal dolore e dalla rabbia, non riesce a nascondere il suo disprezzo. Mi hai umiliato davanti a Kemal, accusa, la voce carica di amarezza. L'uomo che rispetto più di tutti. ma Zera, tremante, raccoglie il coraggio per un'ultima confessione. Non ho mai smesso di amarti, nemmeno un momento, proprio come ai tempi del liceo. Pronta a lasciarlo, si volta per andarsene, ma Zahir la ferma. Con un gesto improvviso la attira a sé e la stringe in un abbraccio disperato. Intanto, la serata di Akan e Zeynep si conclude con un ritorno all'hotel. Lei cammina accanto a lui, un sorriso leggero sulle labbra, ignara del dramma che si sta svolgendo nell'ombra. Da lontano, Emir osserva ogni loro movimento con occhi scrutatori. Li vede scendere dall'auto e si avvicina furtivamente, il cuore battente per motivi ben diversi. Nel momento in cui Akan si ferma per restituire a Zeynep la sciarpa dimenticata, la scena si carica di una dolcezza amara. Con gesti lenti la drappeggia attorno al collo di lei, le sue maniche sfiorano la pelle con delicatezza. Mi piaci così tanto, le sussurra, parole che fluttuano tra loro come petali al vento. Zeynep, ancora vicino all'hotel, avverte la presenza incombente di Emir. Il suo sguardo fisso la trafigge attraverso il vetro dell'auto. Quando Akan scompare nel buio della notte Zeynep si avventura verso l'auto di Emir. Lui, con un tono diretto e privo di cortesie, la interpella. Come mai non sembri sorpresa di vedermi? La accusa di infedeltà pesa nell'aria come una spada di Damocle, ma Zeynep, esasperata dai suoi continui giochi mentali, gli risponde fermamente. Non voglio più che tu venga da me. È finita, Emir. Emir, maestro nell'arte della manipolazione, cambia registro con una facilità disarmante. La sua voce si fa più morbida, quasi carezzevole. Sono venuto solo per dire addio nel modo giusto, spiega, proprio come tutto è iniziato, in un albergo. Si avvicina e le sfiora il viso con una delicatezza che contrasta con la freddezza delle sue parole, insinuando che il suo cuore nasconda ancora fiamme inestinguibili per lui. Poi, senza attendere risposta, risale in auto. Prima che Emir possa allontanarsi, Zeynep, superata dall'emozione e con la voce che trema, gli urla dietro. Arriverà il giorno in cui ti dimenticherò. Emir parte. Zeynep resta sola, una figura vulnerabile avvolta nella penombra e il cuore pesante per l'addio appena consumato. Nel silenzio della notte, Kemal si avvicina al letto dove la piccola Denise riposa indisturbata. Nian finge di dormire, ma i suoi occhi si spalancano nel buio, carichi di preoccupazione. Con voce appena percettibile Kemal sussurra alla sua bambina «Non ce la faccio, piccola mia, a lasciarti nelle mani di quell'uomo. Le sue parole sono un soffio di angoscia e determinazione». Poi, sopraffatto dalla rabbia, esce frettolosamente dalla stanza. Nian, rimasta sola, volge uno sguardo afflitto verso Denise decidendo in un attimo di agire. Estrae rapidamente il cellulare e invia un messaggio a Leila con la loro posizione «Ti aspetto qui domani mattina». Da un'altra parte della città, Leila è a casa, assorta nei suoi pensieri. La sua espressione è carica di apprensione mentre esamina la raccomandata ricevuta la mattina, ma il messaggio di Nian sul telefono la scuote. Un piano deve essere messo in atto e la posta in gioco è alta. Nel frattempo, in una stanza buia, Tarik e Banu riposano insieme, lei immersa in un sonno profondo mentre lui è assalito dai pensieri. Mosso da un impulso incontrollabile, Tarik afferra furtivamente il telefono di Banu e ne controlla la cronologia. Ancora una volta non trova nulla che possa confermare i suoi sospetti, ma l'inquietudine continua a tormentarlo. All'esterno, Kemal è uscito per prendere un po' d'aria fresca, cercando di calmare la tempesta dentro di sé. A breve distanza, nascosta nell'ombra, Asu è seduta in macchina. Il suo volto è segnato da una risolutezza glaciale mentre pronuncia parole che gelano l'aria. Questa è la mia decisione finale. Voglio che agisci stasera. Con la luce del mattino a illuminare delicatamente la stanza, Kemal entra silenziosamente dove Nihan riposa ancora, avvolta nei sogni. Con movimenti teneri e protettivi, prende in braccio la piccola Denise che dorme tranquillamente. Il suo cuore si riempie di emozione mentre la stringe a sé, sussurrandole dolcemente. Oggi è il nostro primo giorno insieme, solo tu ed io, come padre e figlia. Con la piccola stretta a sé esce dalla stanza, lasciando dietro di sé il silenzio e la promessa di un nuovo inizio. Intanto, in un ambiente molto diverso, si svolge una scena commovente in ospedale. Emir è seduto accanto al letto di sua madre, che giace immobile, ancora avvolta nelle nebbie di un lungo sonno indotto. Con voce carica di emozione mista a tristezza le sussurra che strano risveglio hai avuto, mamma, che ancora non ti sei destata da questo sonno eterno. Lentamente, sposta le tende per far entrare un raggio di luce nella stanza, sperando di svegliarla dal suo lungo letargo. Quando si volta nuovamente verso sua madre, si ferma di colpo, gli occhi spalancati nello stupore. La donna, dopo anni di coma, ha aperto gli occhi. Emir, una versione di sé mai vista prima, con un misto di gioia e incredulità, accarezza il volto della madre, chiedendole con voce tremante mamma, mi riconosci? La voce della donna è debole e le sue parole escono con difficoltà, ma sono chiare. Sei mio figlio. L'emozione di Emir raggiunge il culmine e con un sorriso radioso si china per baciare la madre, le lacrime di felicità che gli irrigano il viso. La determinazione di Asu di rimuovere Nian dalla sua vita e dal cuore di Kemal raggiunge il culmine quando, spinta da una furia cieca, trama di porre fine all'esistenza della sua rivale. Il suo piano di sabotare la macchina di Nian è l'atto finale di una discesa nelle profondità della vendetta e della malvagità, un gesto che potrebbe distruggere molte vite, inclusa la sua. Nonostante le avvertenze di Emir, suo fratello, che le aveva espressamente chiesto di tenere Kemal lontano da Nian senza tuttavia recare danno alla giovane donna, Asu decide di ignorare i consigli. Le parole di Asu sono cariche di un sinistro sollievo mentre il complice conferma che il serbatoio del liquido dei freni della macchina di Nian è stato manomesso durante la notte. Il piano è semplice ma mortale. Provocare un guasto all'impianto frenante di Nian trasformando un normale tragitto in auto in un potenziale disastro. La luce del mattino filtra timidamente attraverso le finestre della baita quando Nian svegliandosi improvvisamente si accorge dell'assenza di Denisa accanto a sé. Preoccupata si rivolge subito a Kemal la voce tremante Dov'è la bimba? Kemal cerca di calmarla con un tono rassicurante È nel soggiorno tranquilla Ma la tranquillità dura poco Nian cambia tono assumendo un'espressione grave Hai preso la tua decisione? chiede fissando Kemal negli occhi Con il volto segnato dalla determinazione risponde a sé stesso Sì ho preso la mia decisione D'ora in poi tu e Denise starete con me quindi preparati partiamo Nian agitatissima all'idea di una partenza così improvvisa tenta di rallentare il corso degli eventi Facciamo colazione e ne parliamo insieme propone cercando di infondere un po' di normalità nella situazione Tuttavia per Kemal non c'è spazio per ulteriori discussioni La sua decisione è irrevocabile e ora aspetta a Nian scegliere da che parte stare Nel culmine della tensione Kemal afferra il trasportino dove la piccola Denise è riposta e si avvia verso la porta Nian mossasi distinto afferra il trasportino stringendolo a sé come per proteggere la sua bambina dall'essere portata via Stai agendo come un pazzo Kemal non puoi costringermi a prendere una decisione del genere urla la rabbia e la disperazione evidenti nel suo viso Kemal ormai sordo alle suppliche di Nian prosegue deciso verso l'esterno il viso duro il passo rapido con la piccola Denise al sicuro nel trasportino varca la soglia di casa lasciando una Nian disperata e combattuta il cuore a pezzi mentre vede allontanarsi l'uomo che ha deciso di stravolgere le loro vite senza un attimo di esitazione la mattina si carica di tensioni non appena Tariq pronto a uscire viene fermato all'uscio di casa da Banu la preoccupazione è evidente sul suo viso mentre lo interroga sul motivo della sua visita all'azienda di Emir Tariq chiaramente infastidito dalla questione le risponde bruscamente finché Kemal lavorerà lì io continuerò ad andare in azienda detto ciò si allontana con un'aria irritata lasciando una Banu visibilmente turbata non appena Tariq varca la soglia Banu si ritira rapidamente in camera e afferra il telefono con mano tremante compose il numero di Emir che si trova ancora in ospedale accanto a sua madre Emir sussurra appena lui risponde ma prima che possa continuare una figura irrompe furiosamente nella stanza è Tariq che è rientrato inaspettatamente con uno scatto di rabbia le strappa il telefono dalle mani proprio nel momento in cui dall'altro capo si sente la voce di Emir il cuore di Tariq si gela la rivelazione lo colpisce come un pugno allo stomaco è Emir l'uomo al telefono con sua moglie con lo sguardo perso nel vuoto e un misto di rabbia e disperazione che gli attanaglia il viso Tariq rimane immobile incapace di comprendere appieno il tradimento con il cuore pesante Nian si oppone con tutte le sue forze arrivando al punto di mettersi davanti alla macchina di Kemal in un gesto estremo di disperazione se vuoi scappare con Deniz prima devi passare con la tua auto sul mio corpo le sue parole risuonano cariche di emozione e paura Kemal apparentemente arreso accenna a un segno di resa ma è solo un'astuzia non appena Nian si volta per rientrare in casa lui afferra la bambina e scappa dopo che Kemal in un gesto drammatico porterà via Deniz Nian sarà sopraffatta dal panico e dall'urgenza di riavere sua figlia Kemal tuttavia sta solo simulando una fuga un piano astuto per attirare Nian al suo seguito ignaro del pericolo mortale che sta involontariamente creando per lei nel clima di alta tensione Nian si lancerà in un inseguimento frenetico ma la tragedia incombe con il liquido dei freni manomesso la sua auto perderà il controllo portandola a un terribile incidente fuori strada questo momento di pura angoscia si carica di tragica ironia mentre Kemal mirava solo a riavvicinare Nian il suo piano si trasforma in un incubo che lo lascerà devastato dal senso di colpa Nian in preda al panico si lancia in un frenetico inseguimento Kemal parlando con Deniz per rassicurarla cerca di mantenere la calma stai tranquilla principessa non voglio separarti da tua madre voglio solo che venga con noi ma la situazione sfugge di mano quando Nian furiosa lo affronta al telefono la tensione è palpabile e il tachimetro della sua auto segna una velocità sempre più pericolosa devi rallentare grida Kemal al telefono ma è troppo tardi quando Nian prova a frenare scopre con orrore che i freni non rispondono in un attimo di terrore la sua auto fa un test a coda e finisce violentemente contro un albero Kemal testimone impotente dell'incidente corre verso l'auto di Nian trovandola priva di sensi e con il volto sanguinante il suo dolore esplode in un grido disperato ti prego non lasciarmi non posso vivere senza di te mentre tiene in braccio la figura inerme di Nian i sensi di colpa lo travolgono mentre la tensione si dipana tra Banu e Tarik quest'ultimo consumato dall'ira le intima di rispondere ad Emir esigendo di sapere il motivo di quella chiamata Banu tentando di mantenersi evasiva afferma che si trattava solo di questioni di lavoro ma Tarik non è più disposto a credere alle sue parole distrutto dalla sfiducia respinge le suppliche di Banu che gli chiede di restituirle il telefono e in un gesto di rabbia lo scaglia violentemente a terra esclamando prendilo se lo vuoi parallelamente una scena ancora più tragica si sta svolgendo altrove Ayan e Leila sono in auto diretti verso l'incontro con Nihan quando una visione agghiacciante interrompe la loro conversazione una macchina schiantata contro un albero attira la loro attenzione e con crescente orrore riconoscono che alla guida c'è qualcuno che loro conoscono molto bene Leila visibilmente sconvolta si precipita fuori dall'auto e urlando chiede a Kemal se la persona coinvolta nell'incidente sia Nihan Kemal palesemente in stato di shock e incapace di articolare una risposta chiara balbetta solo che è stata colpa sua Leila scossa lo incalza ulteriormente temendo il peggio per la piccola Denise Di la verità Kemal è successo quello che sto pensando grida disperata Kemal con un urlo straziante ammette sì l'ho fatto la piccola è nella mia macchina Emir è appena entrato nella sua auto quando il suo telefono squilla con insistenza è Tarik all'altro capo della linea la voce carica di rabbia che gli chiede un incontro urgente ma Emir con il suo solito tono arrogante e distaccato rifiuta senza esitazione e chiude la chiamata mentre Emir ignora le richieste di Tarik la situazione vicino all'auto incidentata diventa sempre più disperata Kemal in preda al panico urla di essere colpevole ma Ayhan nel tentativo di farlo ragionare lo schiaffeggia cercando di riportarlo alla realtà Nian si riprenderà devi crederci insiste Ayhan ma Kemal è irremovibile nella sua disperazione tornato in ufficio Emir riceve una serie di messaggi di congratulazioni per il risveglio di sua madre da parte degli azionisti ma la sua attenzione viene catturata da una chiamata inaspettata da Akan mi dispiace Emir inizia Akan spiazzando Emir che chiede confuso il motivo delle scuse Akan gli rivela dell'incidente di Nian una notizia che ha intercettato dalle comunicazioni della polizia Emir sentendo il gelo avvolgergli la voce interroga Akan sulla condizione di Nian apprendendo che è viva ma in condizioni critiche Zeynep ascoltando la conversazione accanto ad Akan è sopraffatta dal timore per la reazione che potrebbe avere Kemal mentre Emir sconvolto si precipita fuori dall'ufficio diretto all'ospedale nell'ambulanza che trasporta Nian Kemal è al suo fianco disperato continua a supplicare Nian di non lasciarlo mentre i medici lottano per stabilizzarla ma improvvisamente l'allarme del monitor cardiaco squarcia il silenzio il cuore di Nian si ferma Kemal terrorizzato chiama i medici che prontamente iniziano le manovre di rianimazione utilizzando il defibrillatore in un tentativo frenetico di salvare la sua vita in un sogno sereno immerso in una luce eterea vediamo Nian distesa su un letto il tutto avvolto in toni candidi come la neve lei dorme pacificamente mentre Kemal vestito anch'esso di bianco e tenendo in mano una delicata gerbera rosa si sdraia accanto a lei con dolcezza le sussurra di svegliarsi ma lei non risponde Kemal insiste parlandole di una splendida giornata che li attende fuori Nian con gli occhi ancora chiusi mormora che è stanca e desidera riposare ancora un po Kemal però non vuole arrendersi e la incoraggia a svegliarsi per non perdere il sorgere del sole aprili amore mio le dice dolcemente mentre le lascia un bacio sulla guancia la realtà la realtà è meno serena torniamo sull'ambulanza dove il cuore di Nian si è fermato dopo un'ulteriore scarica del defibrillatore finalmente il cuore riprende a battere Kemal vicino a lei espira un sospiro di sollievo e felicità misto a paura mentre i paramedici continuano il loro lavoro frenetico nel frattempo Tarik arriva precipitosamente in azienda cercando Emir ma lo trova assente rivolgendosi alla segretaria viene informato che Emir non sarà in azienda quel giorno a causa di un grave incidente che ha coinvolto sua moglie preoccupato e confuso Tarik decide di lasciare un messaggio in segreteria per Kemal sperando di raggiungerlo il prima possibile presso l'ospedale il clima è frenetico Nian viene trasportata d'urgenza in sala chirurgica mentre i medici si preparano per un intervento critico Kemal in preda alla disperazione segue il gruppo implorando i dottori di fare tutto il possibile per salvarla la tensione in ospedale è palpabile e ogni secondo sembra eterno mentre attendono di sapere se Nian supererà la crisi Ayan si avvicina a Kemal ancora scosso e disperato e cerca di infondergli coraggio devi pensare positivo Kemal devi essere forte per Nian gli dice tentando di sollevarlo dal suo dolore Kemal travolto dall'emozione si appoggia a un muro piangendo disperato incapace di trovare la forza di rispondere intanto Emir è in macchina diretto all'ospedale il volto bagnato dalle lacrime per la tragica situazione il cellulare squilla improvvisamente è suo padre Galip che cerca conferme sulle notizie che circolano Emir vinto dall'emozione confessa al padre di sentirsi impotente di fronte al destino incapace di proteggere Nian come avrebbe voluto Leila nel frattempo porta Denise alla residenza di Emir e la affida alle cure di Eda improvvisamente appare Vildan che preoccupata interroga Leila sulle sorti di Nihan sconvolta Leila chiede a Vildan di sedersi prima di rivelare che Nihan ha avuto un grave incidente lasciando Vildan completamente attonita in sala operatoria la situazione di Nihan è critica la sua pressione scende vertiginosamente e sta perdendo molto sangue i medici lavorano freneticamente per stabilizzarla Ayan nel frattempo cerca di convincere Kemal a lasciare l'ospedale prima che Emir arrivi tuttavia Kemal è irremovibile rifiutando di abbandonare Nihan anche di fronte alla minaccia di ulteriori conflitti Ayan gli ricorda le gravi conseguenze che questa guerra potrebbe avere non solo per lui ma anche per Denise e Nihan rivela poi che la ragione della loro presenza in quel luogo quel giorno era la paura di Nihan Kemal riflettendo su queste parole sembra realizzare qualcosa di importante Ayan lo implora di mantenere segreta la verità su Denis soprattutto da Emir proprio mentre Emir entra in ospedale Ayan è al telefono con Leila guidando verso l'ospedale con Vildan al suo fianco Vildan ansiosa chiede notizie chiare sullo stato di sua figlia Ayan cerca di rassicurarla Nihan è viva dobbiamo solo restare calme la dottoressa esce dalla sala operatoria e Kemal le corre incontro ansioso di sapere le condizioni di Nihan lei informa che Nihan ha perso molto sangue e necessita urgentemente di un donatore Aihan frustrato dalla risposta si rivolge alla dottoressa in tono polemico ma siamo in un ospedale se non avete voi il sangue chi dovrebbe averlo la dottoressa esprime con urgenza la necessità di trovare un donatore compatibile per Nihan spiegando che il donatore non deve aver assunto farmaci o alcol nelle ultime 48 ore e non deve avere malattie croniche Ayan e Kemal si scambiano uno sguardo preoccupato consapevoli che nessuno dei due può donare il sangue Ayan menziona che Vildan è in arrivo ma Kemal interviene rapidamente ricordando che Vildan sta assumendo medicinali che ne invalidano la donazione la dottoressa l'incalza sottolineando che il tempo è poco in quel momento critico Emir fa irruzione affrontando direttamente la dottoressa per aggiornamenti sulla situazione critica di sua moglie quando si volta e vede Kemal e Ayan la sua rabbia esplode si scaglia contro Kemal urlandogli di lasciare l'ospedale Kemal però non si lascia intimidire e risponde con fermezza che non se ne andrà fino a quando non avrà la certezza che Nyan sia al sicuro Nyan è stata parte del mio passato e finché non saprò che è viva resterò qui dichiara con determinazione Emir accecato dalla gelosia e dalla rabbia attacca fisicamente Kemal dando inizio a una violenta colluttazione Ayan interviene cercando di separarli Emir fuori di sé chiede a Kemal come abbia fatto a sapere dell'incidente prima di lui Emir scosso e incredulo ascolta mentre Kemal continua sfidandolo tutto ciò che è mio rimarrà mio lo capisci? ti porterò via tutto prima o poi la tensione tra i due uomini raggiunge il culmine quando Kemal accecato dalla rabbia afferra Emir per il collo e lo spinge contro un muro iniziando una lotta feroce nel culmine della loro violenta lite Ayan interviene con disperazione urlando a Emir e Kemal questo è il vostro amore per quella donna? lei sta lottando per la vita e voi vi comportate così? dobbiamo trovare il sangue? le sue parole risuonano nel corridoio richiamando i due uomini alla gravità della situazione Kemal ancora infuriato ma consapevole della priorità di salvare Nihan prende le chiavi della macchina da Ayan e si allontana dall'ospedale a passo rapido Emir invece rimane estraendo il telefono per comunicare con Tufan il suo assistente dà istruzioni precise per radunare tutte le persone dell'azienda con gruppo sanguigno A positivo sperando di trovare almeno un donatore compatibile mentre Kemal si dirige verso l'auto una folla di giornalisti lo accerchia bombardandolo di domande sul suo coinvolgimento nell'incidente di Nihan Kemal ignorando le loro domande si precipita in macchina e chiama immediatamente Zeynep senza perdere tempo in formalità chiede direttamente il suo gruppo sanguigno al sapere che è compatibile con quello di Nihan le ordina di prendere un taxi e di recarsi subito all'ospedale Contemporaneamente Emir continua a tessere la sua rete di influenze incontrando il direttore sanitario dell'ospedale in cambio di un sostanzioso contributo all'ospedale chiede che venga impedito l'accesso a Kemal mostrando una foto di lui e marcandolo come persona non gradita a casa Soidere l'atmosfera si spezza bruscamente quando Banu accende la tv una notizia urgente interrompe la programmazione regolare Nihan è stata coinvolta in un grave incidente stradale Fehime completamente sconvolta dalla notizia lascia cadere una bacinella che stava tenendo con un tonfo che risuona nella stanza silenziosa maledizione esclama Fehime fissando lo schermo con occhi allargati chiamate Kemal chiedetegli cosa è successo dice rivolta a Banu mentre comincia a pregare a bassa voce per la salvezza di Nihan ricordando a tutti che ha una bambina piccola che ha bisogno di lei Banu con un tono provocatorio la stuzzica non pensavo ti piacesse così tanto Nihan alludendo alla foto di Denise trovata inaspettatamente sotto il letto di Fehime le parole di Banu colpiscono Fehime più profondamente di quanto si aspettasse spingendola a ritirarsi in camera sua dove scoppia in un pianto liberatorio lasciandosi andare alle emozioni che ha trattenuto nell'ospedale l'atmosfera è tesa Emir con passo deciso si avvicina a Leila che sta cercando di consolare Vildan ancora scossa dall'incidente posso parlarti un momento in disparte chiede Emir con un tono serio Leila visibilmente preoccupata accetta e i due si allontanano mentre Ayanna osserva la scena da lontano preoccupato per l'esito della conversazione durante la loro discussione privata Leila rivela a Emir la versione dei fatti che hanno concordato di raccontare Nian mi ha mandato un messaggio chiedendomi di raggiungerla alla baita inizia Leila mostrando a Emir il messaggio con la posizione sul suo cellulare appena arrivata Nian era già pronta per lasciare la casa di fretta e mi ha lasciato Dennis in affidamento continua cercando di mantenere la calma Emir con la mente che corre a mille all'ora chiede perché Nian abbia lasciato così precipitosamente la casa Leila scuote la testa non lo so non me l'ha detto risponde cercando di nascondere qualsiasi segno di incertezza che potrebbe tradire la verità dietro la loro versione dei fatti Emir con uno sguardo sospettoso fissa Leila e le chiede se stia mentendo Leila con un'espressione imperturbabile risponde fredda non è il momento adatto per inventare storie Emir le sue parole sono ferme ma l'incertezza nel suo sguardo è appena percettibile nel frattempo la situazione in sala operatoria diventa sempre più critica la dottoressa esce con un'espressione tesa e chiede con urgenza se siano riusciti a trovare il sangue necessario per salvare Nian contemporaneamente Kemal con un'espressione agitata e tormentata raggiunge Zainep e la fa salire in macchina dirigendosi verso l'ospedale alla massima velocità Emir nel frattempo chiama Tufan con rabbia crescente chiedendo dove si trovi e quanto manchi per arrivare con i donatori Tufan visibilmente preoccupato risponde che C vorrà ancora mezz'ora ma la dottoressa avverte che non c'è più tempo furioso Emir colpisce un vetro con un pugno frantumandolo uccidimi se le succede qualcosa urla al padre sparami se dovesse morire Galip cercando di mantenere la calma tenta di rassicurarlo ma l'aria è carica di tensione e preoccupazione nel frattempo lei la chiama Kemal con urgenza chiedendo se abbia trovato il sangue Kemal in ansia conferma che è con Zeynep e stanno arrivando Zeynep con la voce tremante chiede al fratello dettagli sull'incidente e Kemal Amaro le rivela che è stato causato da lui lasciando Zeynep sconvolta e in lacrime altrove Asu è seduta in macchina mentre Hakan interroga la polizia riguardo alla possibilità di un sabotaggio il poliziotto risponde che stanno analizzando le auto ma al momento sembra trattarsi di una perdita di controllo in curva tuttavia promette di ottenere maggiori informazioni dopo un'ispezione dettagliata Hakan visibilmente perplesso chiama immediatamente Emir riferendogli che l'incidente sembra essere stato causato dalla difficoltà della curva ma Emir G. Lee ordina di indagare a fondo sull'accaduto Kemal e Zeynep arrivano in ospedale ma Kemal viene immediatamente fermato dalla sorveglianza furioso si rifiuta di farsi bloccare e incita Zeynep a entrare e farsi prelevare il sangue mentre inizia una colluttazione con la sorveglianza Kemal spinto dalla disperazione riesce a neutralizzare i guardiani permettendo a Zeynep di entrare una volta dentro Zeynep viene raggiunta da Emir che la osserva mentre completa il prelievo spostando con forza la tendina le chiede furiosamente cosa Ci faccia lì Zeynep risponde con freddezza spiegando che stanno verificando la compatibilità del suo sangue con quello di Nihan Emir visibilmente emozionato le rivolge un ringraziamento sincero ma Zeynep con le lacrime e agli occhi risponde a Mara la ami così tanto da dirmi grazie Emir si ferma pensieroso prima di dire mi odi ma non puoi smettere di amarmi Zeynep con la voce spezzata ribatte che arriverà anche quel giorno Emir continua sai cosa vedo quando guardo te o una pietra vedo sempre Nihan le parole pesano nell'aria lasciando Zeynep in lacrime Emir le consiglia di non guardare il mondo con i suoi occhi né di pensare con il cuore spiegandole che tutto il suo mondo è Nihan poi con le lacrime che iniziano a scendere si allontana affermando con freddezza che lei non significa nulla per lui tuttavia mentre si allontana è evidente che dentro di lui si sta svolgendo una battaglia una lotta tra l'amore che prova e la realtà della sua ossessione per Nihan se siete curiosi e volete sapere di più scriveteci nei commenti nuovo episodio e fateci sapere le vostre impressioni sull'episodio non dimenticate di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle prossime anticipazioni io sono Isabella e vi abbraccio forte